Ciao gente gentosa e bentornati sul corso di base per principianti su minecraft Allora l'altra volta vi avevo mostrato un po' tutti i mob, i minerali E come cuocere gli oggetti E tutte queste cose qua Oggi invece voglio mostrarvi tre cose Allora innanzitutto rimettiamo in facile E volevo mostrarvi innanzitutto tutti i mob Aspettate un attimo Quindi iniziamo E che cacchio togliete Iniziamo dal primo Il creeper, lo sker, il ragno, lo zombie, lo slime E il pigman zombie, il ghast e l'enderman finora Allora iniziamo subito dal creeper Allora il creeper è questo coso verde qua Ora a me non mi attacca perché sono in creativa Però è molto pericoloso Quindi vi conviene stare alla larga Perché se voi lo colpite E se è ancora vicino a voi esploderà E se siete troppo vicini vi può anche uccidere Te che vuoi Ecco come ucciderlo Allora o usate delle frecce da lontano Oppure usate la mia tecnica Alla colpisci e fuggi Così si Così si calmerà un pochino Come ho fatto? Vabbè Così finché non muore Sì però sto laghetto rompe Vieni qui bastardo No è esploso Se voi lo uccidete Senza che lui esploda Vi rilascerà la polvere da sparo Che si può usare per fare le bombe E non so quando in un altro episodio Vi spiegherò come si fanno anche quelle Ora aspettate che mi prendo un'arma Altrimenti non finiamo mai Ok è morto E questa qua è la polvere da sparo Dov'è? Eccola Poi passiamo allo scheletro Quello che io odio di più E' questo stronzo con l'arco C'è tacchera da lontano E quindi E' molto semplice da uccidere Però è molto difficile da avvicinare Quindi o usate la tecnica Che lo andate vicino a zig zag Oppure sempre con un arco Ci sono Eh vedete Muore subito Può rilasciare frecce per l'arco Un arco Solo che è più raro O delle ossa Ora buttiamo un po' di roba Sino Qua so pieno Poi Il ragno Allora Il ragno può fare salti più grandi E può E' più E' più largo ma più basso Quindi può passare anche attraverso i passaggi Con un buco Però Insomma non è In altezza Ma è in larghezza Che difetta questo E può anche saltare di tre Di tre blocchi Enderman E' uccidendolo Ci può rilasciare O la cordicella Che ci ha rilasciato O De Occhi di ragno Che sarebbero Che sarebbero Che sarebbero Questo qua è l'occhio di ragno fermentato Che ci diventa Se voi lo cuocete Ecco Occhio di ragno La cordicella può servire per fare l'arco Oppure la canna da pesca Ma lo vedremo più avanti Poi Ah si Ce ne sono alcuni Tipo lo zombie Questo qui Che bruciano al sole Vedete E muoiono Invece alcuni come il creeper Non muoiono Non bruciano Allora Vi dico quali sono quelli che bruciano Allora Il creeper Finora Il creeper E' E' Il ragno Non bruciano Mentre lo scheletro e lo zombie Finora bruciano Lo zombie è il più debole Dei mostri Lo slime non brucia Come potete vedere E voi uccidendolo Si duplicherà In slime sempre più piccoli Che però saranno più semplici da uccidere E vi rilascerà Questi qui Che sono palle di slime Non palle di slime Nel senso Vabbè Avete capito Che In pratica Noi tirandole Eh Ah no Mi sto confondendo Con la perla Ender Lasciamo stare Poi C'è il pigman zombie Che brucia anche lui E Anche un maiale Può diventare Pigman zombie Bruciando Cioè Venendo colpito Da un fulmine Durante la pioggia Aspettate Che rimettiamo Notte E di solito I pigman zombie Li trovate Nel nether Nell'inferno Allora Vi attaccheranno Solo se Vi attaccate voi E vi rilasciano La carne marcia Come anche I zombie Poi Gust E' questo coso Qua gigante Che Si trova Solo nel nether E che vi sparerà Palle di fuoco Però E Quando morirà Vi può rilasciare La grime di gust Che vi servono Per fare le pozioni O polvere Da sparo Ora Aspettate Che Oh che cacchio Però Tasta roba Torna al gioco Aspettate Che Cerco di ucciderne uno Cioè Cerco di farmi sparare Da uno Di essi Oh Mi sparo Vabbè Se vi spara il fuoco Voi Con la spada Potete difendervi Con il tasto destro E potete rimandagliele contro Poi c'è L'enderman Questo vi attaccherà solo se voi lo guardate in faccia O se lo attaccate Può acchiappare blocchi E si può anche teleportare Nell'acqua Crepa Perde vite Insomma E può prendere blocchi Come Qui mi pare Appena fatto No non l'ha preso Mi pare Che ha preso un blocco No E vi lascia Eccole invece Le perle Che non trovo Dove stanno Perle Dell'ender Che voi Solo in sopravvivenza però Cliccando con il tasto destro avanti Le lancerà E voi Vi teleporterete Anche se Perdendo qualche vita Nel punto in cui Atterrerà Poi Passiamo ad altri Mostri Ragno delle caverne Pesciolino d'argento Blades Cubo di magma Pipistrello Strega E poi iniziano maiale Questi qua Allora Iniziamo con Il ragno delle caverne Come il ragno normale Solo che è più piccolo E vi può anche avvelenare A me non mi può avvelenare Perché sono in creativa E vi lascio le stesse cose Del ragno Poi Pesciolino d'argento E questo Simpatico tizio qua Non vi fa niente Però Voi E' molto difficile Da prenderlo Perché E' molto difficile Da prendere Ciao ragno E Quello là Era il pesciolino d'argento Poi abbiamo Il Blades Che è questo Cosa qui Che spara sempre fuoco E si trova solo nel nether Anche lui E vi può lasciare La verga di Blades Che 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 Banco da lavoro Mettendo qui Dov'è La verga di Blades L'ho buttata Ecco la verga di Blades Mi diventa la polvere Di Blades Utile anch'essa Per fare pozioni Questo Lasciamolo qua E poi abbiamo Il cubo di magma Che Che è questo Si trova solo nel nether E' come una molla Diciamo E' un Cubo di magma Che si trova Vicino alla lava E' molto semplice Da uccidere Poi il pipistrello Non vi fa niente Come il pesciolino Di argento Solo che vola E poi c'è La strega Che è come un villico E Che vi tirerà Le pozioni Ecco Nena Preparata una E quindi Vi può rallentare Vi può avvelenare E cose del genere Ok Crepata Ok E quindi Con questo Sono finiti Tutti i mostri A questo punto Vi Voglio insegnare A A pescare Allora Con le nostre Bellissime Cordicelle E con I bastoncini Possiamo costruire Una canna da pesca In questo modo Canna da pesca Ah e già che ci siamo Vi faccio vedere L'arco E le frecce Si fanno Mettendo Bastoncino qua Piuma dietro E davanti Sielce Allora Bene Si è fatto giorno Proprio quello che aspettavo E possiamo provare A pescare Quando voi avete Una canna da pesca In mano Con il tasto destro Potete immergerla Nell'acqua Quando La La lenza Andrà sotto l'acqua Sotto la superficie Dell'acqua Rigliccatelo E a quel punto Vi prenderà un pesce Lo trascinerà A voi Però mi pare Che in questo punto Non ci sono pesci Ah si In minecraft I pesci Sono invisibili E dai Preso pesce Anche questo Si può cucinare Infatti è un pesce crudo E così Si pesca Poi Coltivazione Innanzitutto Vi serve La vostra zappa Che vi avevo già fatto vedere Come si craftava Ve lo faccio rivedere Si fa così E così Zappa Con la zappa Possiamo Zappare il terreno E farlo diventare coltivabile A questo punto Noi ci possiamo piantare Allora le canne da zucchero Si possono piantare anche così E quelle là Cresceranno da solo Così E voi potrete distruggerle Invece qui possiamo piantare I nostri semi Semi di Di melone Di zucca Di quello che volete Questi sono i più semplici Che si prendono distruggendo l'erba Così E certe volte solo vi vengono E alla fine Quando Quando cresceranno Aspettate E vi verrà quello che Che più desiderate Vedete La zucca E poi Si possono piantare anche Le carote E le patate Anche Sto villico Che rompe Vattene Le patate Ecco Ora Noi O aspettiamo O possiamo anche Accelerare il processo Usando La polvere Eccola La polvere La farina d'ossa Che si fa mettendo Un osso Nella fabbricazione Insomma E Ecco E la faremo crescere Questo è il grano normale Poi dove avevo messo le altre Queste sono carote Questo è Melone Mi pare Ah no Zucca Scusate E queste sono patate E così potete fare la coltivazione Poi quando sono mature Le spaccate E ve le prendete Anche se io ora sto in creativa E non me la date Ok E quindi Per oggi Da Dunicraft Tutto Iscrivetevi Commentate E mettete mi piace Ah a proposito Vi faccio vedere un'altra cosa Già che ci sto Questi cubetti grigi Diciamo Che sembrano Sono blocchi di argilla Poi spaccandoli Vi darà I I Le palline di argilla Aspettate Ora ve lo faccio vedere E Argilla Mettendo l'argilla qua In un modo che ora non mi ricordo Mi pare Così I nuovi del blocco No I mattoni Come si facevano i mattoni Beh in un modo si fanno i mattoni E con i mattoni Che sarebbero questi Possiamo fare dei blocchi di mattoni Utili per costruire case Ok Quindi Iscrivetevi Commentate E mettete mi piace Arrivederci E al prossimo video Ciao